Attenzione, pericolo! Può rendersi pericoloso adesso? Un altro pallone in mezzo Pronti via! Ed è già arrivato il primo gol del match Grande partenza Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio Per provare a sorprendere la formazione avversaria Un approccio che sembra aver funzionato Si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto E non ha sbagliato l'impatto col pallone Praticamente un rigore a porta vuota Ed è